Ciao a tutti fringuelli, faccio questo video per rispondere a una delle domande che mi state facendo praticamente quasi tutti i giorni tra Instagram, YouTube, YouPorn e qualsiasi altra cosa allora, in molti mi chiedete consigli su quale bicicletta comprare, quale abbigliamento comprare quale device, come ciclocomputer, sportwatch, occhiali, casco, scarpe, razzo ok, mi state chiedendo un sacco di informazioni sull'acquisto e molto spesso mi chiedete che in effetti costa tanto allora, non è vero che costa tanto andare in bicicletta certo, dipende da che tipo di esperienza volete fare cioè, se volete avere un'esperienza simile a quella dei pro, non ci sono cazzi lì dovete tirare fuori i soldi sonanti biciclette top di gamma, una bicicletta top va dalle 7.000 euro in su l'abbigliamento costa tantissimo, non è che costa poco prendete ad esempio un kit castelli, con un kit castelli dall'abbigliamento fino ai calzini estivo, invernale non vi dico che vi ci comprate una bicicletta da Decathlon ma poco ci manca il casco, il casco non bisogna mai risparmiare sul casco e poi ci sono tutti i device, come ad esempio sportwatch o ciclocomputer c'è un'infinità di roba sul mercato che determina il costo del vostro andare in bicicletta se prendete prodotti top Garmin spendete una cifra se prendete prodotti economici da Decathlon spendete un'altra cifra così come l'integrazione ci sono persone che si integrano come negli anni 70 mangiano una banana, bevono una bottiglietta d'acqua, si fermano alle fontanelle con il panino e sono a posto ci sono altre persone che invece vanno da nutrizionisti per farsi preparare tutto il necessario per una ottima integrazione ed è chiaro che anche in questo caso il costo lievita quindi quanto costa andare in bicicletta dipende da te cioè non è vero che costa tanto così come non è vero che costa poco dipende solo da che tipo di esperienza vuoi avere io ti posso dire che se sei all'inizio non importa comprare una bicicletta da 7.000 euro non importa vestirsi castelli non importa avere un kit di ruote da 1.500 euro così come non importa avere un Garmin da 500 euro si può fare tutto con 1.500 euro bicicletta, abbigliamento e qualche dispositivo elettronico se sei all'inizio e se vuoi capire che tipo di spesa ti aspetta perché non sai se il ciclismo sarà il tuo sport nel lungo periodo se sei un ciclo amatore molto avanzato che gareggia è chiaro che lì il costo è esorbitante però ci si arriva per gradi non è che ci si arriva dall'oggi al domani io ho iniziato con un cancello da 400 euro e mi vestivo da Decathlon continuo a vestirmi da Decathlon per molte cose ho cambiato bicicletta nel corso degli anni in determinate condizioni vesto abbigliamento molto tecnico altamente tecnico in altre fasi dell'anno mi accontento anche di abbigliamenti molto più entry level ma tutto dipende da te non è possibile fare un discorso assoluto è tutto molto relativo il concetto è che si può andare in bicicletta spendendo pochissimo lo si può fare non credete a chi vi propina sempre prodotti top perché non è vero così come si può andare in bicicletta spendendo moltissimo ma tutto dipende dal tipo di esperienza che volete avere quindi io non ho la risposta assoluta a quanto costa andare in bicicletta però posso dirvi che molto dipende da voi cioè volete spendere tanto perché siete dei super cicloamatori avanzati avete tutto il diritto di farlo oppure volete andare in bicicletta e spendere poco perché avete appena iniziato non c'è nessun tipo di problema si può fare prima era tutto molto più semplice prima le biciclette costavano tendenzialmente meno e i dispositivi erano meno cioè non c'era tutta questa elettronica quindi si spendeva molto meno quindi ragazzi in sintesi fate quello che la vostra esperienza di pedalata vi richiede ma la cosa più importante è l'ho detto anche in un altro video non diventate dei cosplayer non siate dei cosplayer dei professionisti ok? dai è troppo caldo io inizio a correre altrimenti mi sciolgo al sole noi come sempre ci vediamo al prossimo video buon allenamento alla prossima ciao ciao